Salutiamo gli amici, ciao a tutti, oggi siamo in trasferta qua a Barge con il gruppo E2M, il gruppo Brazzicolo. Oggi facciamo una cotta con l'impianto all in one e faremo una birra di grano, vi facciamo vedere, quello per bloccare la vita qua, il manicotto per bloccare, poi qua ci sono due manicotti, uno corto e uno corto, se fate 23 liti potete usare solo quello lungo e basta, vi è sufficiente, se invece fate una cotta come quella di oggi, mettete quello corto, poi l'altro tubo, quello più lungo e poi quando si versano i grani si mette il tappo chiuso, nel senso che quando versi i grani eviti che i grani vanno a finire poi nella parte che invece deve rimanere filtrato, quindi ci metti questo qua, quando poi hai finito i metri i grani che hai mescolato, che poi metteremo questo qua sopra, ci mettiamo il troppo pieno, cioè quello che se il livello sale tanto svuota, come vedete poi bisogna tirarlo fuori e lo mettiamo così, mettendolo così si lascia quando finisce il mescio si lascia scolare, se fate sparge ci buttate dell'acqua all'alto, se fate via lo lasciate scolare finché è finito, dicevo prima Davide, vedete che comunque dove appoggia il cestello? Non appoggia sul fondo, quindi vi trovate qua sul fondo uno spazio, i grani non si mescolano, nel senso rimane uno spazio di 10 litri durante la fase di miscelazione, per fare il grain classico, quello con il lavaggio, di solito si fa una proporzione di 1 kg di grani, 3,8 litri di acqua, quindi 5 kg di grani per 3,8 litri, ovviamente quanta acqua dovete versare, se invece fate via mettiamo tutta l'acqua all'inizio, adesso quanti grani sono? sono 6, 7 x 6, 42, poi ci buttiamo dentro i grani, mescoliamo e poi quando lasciamo scolare, ma qua c'è il litraggio, vedete? no, vedi qua? si, ci sono. va dentro c'è le tacche, quindi quando, prima versate l'acqua, così siete sicuri che versate l'acqua giusta e poi dopo ci mettete il cercherò dopo e poi dopo cominciate a mettere i grani e mescolare, 35 litri, ancora un po' dai, ancora un po' dai, ancora un po' dai, 36 litri, ok? allora, quando avete fatto così, quando avete calcolato l'acqua che ci vuole, accendete la macchina, qua c'è il pulsante, c'è due pulsanti, on off e l'altro è quello della pompa, che esce di lì, questo è chiuso, così, vedete che lascia aumentare l'acqua, è aperto, la fase ce l'avete messo, siamo a posto, programmazione, avete due metodi, manuale o automatico, manuale è semplicissimo, schiacci manuale, imposti la resistenza, che va da 100 a 3000 watt, la temperatura di mesh, di quello che vuoi, che ti serve in quel momento, e il tempo che deve fare questo processo, invece noi facciamo automatico, cioè impostiamo già le soste che deve fare il mesh, schiaccia automatico, e vedete che qua vi viene su R, ricetta, sezione 1, che sarebbe la prima fase di mesh, all'inizio il mesh a 1800, perché 1800? si evita di fare tanto altro, non perché succhia, ma perché avendo un'inerza termica, c'è sempre il pericolo, che quando poi arriva in temperatura, continua a crescere, lo tenete 1800, 2000, di solito un 1500, addirittura, e tenete la Villa Rossi, questo è per questo, poi per quanto riguarda invece il tempo, timer, la prima mesh, di solito si fa poco, il tempo che serve per miscelare i grani, schiacciate, auto di nuovo, e passa alla sezione 2, sezione 2, che è la prima fase di mesh, facciamo il protein rest, a 50 gradi, per 15 minuti, watt, di nuovo, scendete a 1800, potenza, ok, temperatura, 50 gradi, il tempo, timer, facciamo 15 minuti, sezione 3, terza parte, facciamo la prima parte di betamilasi, facciamo una temperatura intorno a 63 gradi, quindi qua ti dà già boiling, ma perché lui ti dà in automatico queste 3 alfa milasi, mesh out e boiling, ma noi poi tu le puoi programmare, potenza, mettiamo sempre 1800, temperatura 63, tempo, facciamo 50 minuti, altra fase, la fase di alfa milasi, sempre 1800, temperatura 72, tempo, 15 minuti, io ve lo imposto così, come ve lo imposto io, poi voi farete, poi dopo, facciamo il mesh out, facciamo sempre 1800, timer 15 minuti, sempre, la temperatura 78 gradi, finito, fate l'ultima fase, boiling, adesso qua dovete lasciare, allora, il discorso della resistenza alta in bollitura, beh, è fondamentale, nel senso, perché il mosto deve bollire, vigoroso, quindi si cerca di lasciare, eh, quindi 3000 watt, temperatura, andiamo su boil, quindi andate, finché non viene la scritta boiling, quindi al massimo, ok, boiling, e il timer, mettiamo un'ora, un'ora di bollitura, dopo che avete messo boiling, il tempo, se schiacciate auto, lui vi dà hop 1, cioè, vi già, vi dà, lui in automatico, quando passate, dopo la fase di boiling, vi dice, la prima gettata di luppolo che dovete fare, in bollitura, qua vi lanpeggio hop 1, cioè dovete mettere, 60 minuti, quindi, timer, 60 minuti, per quello che ho messo, 61 minuti di bollitura, perché lui non riesce a gestire, in contemporanea, la bollitura, 60, la gettata, 60, e quindi metto 61, lui dopo un minuto, dopo, quando scatta, ti dice di mettere il luppolo, quindi 60 minuti, una, schiacci di nuovo, timer, questo qua è importante, timer, e ti fa hop 2, la seconda, gettata, e qua mettiamo, abbiamo detto, 10, ok? Ok, vanno così, schiacciate start, vedete che vi dà delle altre, conta 9, giustabilità, basta che vai avanti, 7, 8, 9, e poi start, e lui parte. Allora, adesso, una volta che avete messo l'acqua, avete programmato, da fare automatico qua, dobbiamo mettere il cestello, qui, prendete il cestello, lo mettete dentro, vedete che, tappo, lo lasciate con il tappo, quello lì, lo mettiamo dopo, quando abbiamo messo i grani, adesso, guardate, mettete il coperchio, la parte della pompa, ecco, dovete mettere insieme, perché se non, mettete dentro, così, chiudi, e accendete la pompa, così comincia, miscela la temperatura, e si sbrigà anche a scaldare, perché se non rimane più calda, solterebbe, riprenda sopra, un attimo, 43, 9, vedi che ti dice, perché, allora, adesso, lui suona, ti dice il meshing, cioè l'inizio del meshing, lui suona finché tu non gli dai consenso che hai versato i grani. Allora, uno messo e l'altro messo, io verso, giù la pompa, vai, giù la pompa, giù la pompa, giù la pompa, apriamo, apri, lì, il coperchio, questo lo levate, versa l'altro messo, 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 vedi, quel tappo bianco che c'è sopra, per evitare, perché questo c'è un cesterio dentro la pittola, per evitare che i grani badano nell'intercappettine sotto nel mozzo, poi un po' ci finisce, perché è inevitabile, perché comunque, vedi, la maglia, non è una maglia firme, vedi che è abbastanza grotta. Quando hai finito, quando avete finito di mescolare, per fare partire, schiacci questo, poi lì sotto, ok, e riparte, vedi, parte col conteggio di 10 minuti, adesso comincia, e quindi sempre a 44 gradi, lui mantiene sempre a 44 gradi, cioè il bello di questi impianti che hanno, rispetto a quello che fai con la pittola normale, hai un controllo maggiore della temperatura, dopo che avete mescolato, togliete il tappo, poi prendete questo, ce lo mettete sopra, poi ci mettete il troppo pieno dalla parte, e rimane un po' più in alto, perché poi vedrai che è meglio, riprendiamo il coperchio, chiudi pure, chiudiamo, e via, scendi la pompa, adesso qua la pompa dovete stare sempre attenti, controllate, perché ho visto che c'è tanta pola, probabilmente si intaggiano un pochettino sistema di filtrato, quindi il morto tenderà a salire, se riuscite ad evitare che traccini all'inizio è meglio, e potete farlo parzializzando, chiudendo, il flusso, tramite, chiudi, va meglio la spazio, non deve essere ritratato, benissimo, lui sta facendo un filtrato, cioè praticamente con le gommelle dei chicchi dall'orzo del frumento, il morto circola dentro, e quindi le farine rimangono intrappolate, e quindi lui va come per pulire la birra, aumentando la temperatura per arrivare a 50 gradi, 50 gradi e poi fai 15 gradi, cioè che questa interna è molto più comoda che con le altre, no, poi tu, tu dopo che hai mescolato, quando regoli più o meno il flusso che vedi che non deborda, ti siedi, spegnere la ponte, poi aprire, apri tutto perché se no schifo, ah sì perché, apri tutto, tira su qua, tu tira qua, attenzione che brucia, perché ti sali lì sopra, in teoria sì perché spezza la schiena quando lo, perché il problema è che ti fa, che ti fa da risuccio, adesso c'è il problema di spazio, vai vai, vai, ora un po', ora, ora, adesso vedi, sta scolando, adesso ci butti dentro, lo spazio, lo spazio, 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 scomodo anche avere i piedi lì, è vero questo aria o sola, mi libera la mano, è quello lì sì, è bellissimo, ci mettiamo questo qua, così non ci va l'acqua nel buco, puoi cominciare, mettici questo qua, ma questo è giusto, solo bocchia, per evitare che poi si formano delle canalizzazioni se la butti nella ponte, ci diamo il consenso, lui parte, quindi lui, chiuso, così lui già sta, ma sta già salendo la resistenza fino a 100 gradi, perché comunque, i grani assorbono, e quindi una parte del mostro che rimane più di 100, perché rimangono assorbiti dalle, ma all'interno c'è solo malto, o avete messo anche i fiocchi, dentro c'è anche dei fiocchi, ma erano già nel, tu guardi negli ingredienti qua ci sono già anche i fiocchi, c'è già, i fiocchi di avena, i fiocchi di frumento, e poi, lo mettiamo in qualche parte, lo mettiamo in qualche parte, lo mettiti così, allora, adesso ce l'avete un colino, adesso bisogna metterci il luppolo, quindi Massimo prepara la pane, queste qua sono tutte proteine che vengono a casa, Allora, ci avete due buste con scritto primo luppolo, messi già insieme e già messi nella sacca. Perfetto, mettetele qua e attaccatele da qualche parte dove potete. Noi a casa abbiamo il contenitore del luppolo, dove mettiamo il luppolo dentro, poi lo mettiamo dentro. Adesso, lui vedi che quando è arrivato, quando prima ha suonato, gli ha detto che dovremmo mettere la prima dittata di luppolo. Adesso vedete che suonato c'è due, quando arriverà i 15 minuti, il cittadino ti avvertirà di mettere il secondo, perché abbiamo deciso di mettere due gettate. Ah no, non vale bene. Sì, 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 si, guarda, lo programmi sempre, questo qua è un regolatore programma. Compratevi, compratevi uno basta, c'è sul sito di vettolina, lo mettete, lo agganciate qua e ci buttate il luppolo. Lo facciamo, lo buttiamo nel fermentatore d'acqua. Noi usiamo, ci mettiamo il beccuccio qua quando è raffreddata, con il fermentatore lo facciamo, tanto una fase che deve ossigenarsi tanto anche la birra per una fase di lavorazione dei lieviti. Tutte e due? Tutte e due. Il problema è che le metterse lì, tirare i sacchi. E io lo faccio. C'è il mio, ma io quello. Io faccio il mio. Perché non andiamo a passare, a riutilizzare quello lì a pezzettino. Se era molto complicato, non posso se lo pezzo. Lasciamo un attimo lavorare lui, poi lo facciamo. Ok, no? C'è da dire, sì, sì, anche. No, una dice, no, quando te la bevi, la birra dici, cazzo, venire. E' anche quello che ho sempre usato, la serpentina, perché la butti dentro. Uno dei due che arrivi lì. L'acqua è bella fresca, al massimo basso un po' la stessa. Basso a posto. Quindi c'è la temperatura della birra. Lascia la nire in su un po', poi vediamo, poi tanto la prima sarà più fredda. Come è fredda? Anzi, sarà già troppo fredda. 28, 28, 28, 28, 24. Il tuo pane dovrebbe uscire al massimo 22, dai. O se volete una birra più bella che ha sotto, c'è più... Se volete di più di una o dell'altra, cosa volete fare? Vogliamo fare più, allora, questa ce n'è di meno, facciamo più bene. In realtà, il lievito, bisognerebbe reidratarlo, cioè, anche sulle istruzioni, c'è scritto che bisogna reidratarlo, però... Noi abbiamo fatto diverse prove, reidratando, non reidratando, alla fine... Non ho macchiato l'acqua. Allora, tutto a posto, abbiamo finito la nostra birra qua, qua il gruppo di Barge 2M, vi saluta, al prossimo video. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao...